Musica Buonasera da Tu per Tu, storie di ordinarie truffe, frodi, speculazioni e corruzione, le storie di chi con la crisi ha emessi e arricchito, una crisi economica specie di queste dimensioni che è diventato uno straordinario affare per chi ha capitali di partenza, aderenze giuste e cinismo, storie che purtroppo ci hanno lasciato a bocca aperta e hanno aperto uno squarcio nella tela del malaffare e del silenzio. Le troviamo nell'ultimo libro di Mario Giordano, Pescecani, quelli che si riempiono le tasche alle spalle del paese che affonda, mondatori, editori. Io ringrazio Mario Giordano che è qui con noi. Grazie a voi, buonasera. Grazie direttore. Io partirei subito con la prima domanda, l'esigenza di scrivere credo di capire quale sia, ma cosa si aspetta da questa ennesima fatica? Ma io mi aspetto che ci sia un po' di rivalutazione dei fessi, perché tutti noi ci sentiamo un po' fessi di fronte a questo moltiplicarsi dei furbi. Prezzolini diceva che al mondo si divide fra furbi e fessi. I fessi sono quelli che pagano, fanno le cose regolarmente. I furbi sono quelli che vivono sulle spalle dei fessi. Purtroppo sono sempre di più, e lo vediamo, le cronache di tutti i giorni, e sono sempre di più. Allora, secondo me ci vuole un po' una rivolta dei fessi, ma per dire con orgoglio che rispettare le regole, che seguire, non essere corrotti, denunciare chi corrompe, denunciare quel po' di malaffare che c'è anche attorno a noi, qualche volta oserei dire anche un po' dentro di noi, ci farà stare meglio, ci farà salvare questo paese, perché tutti noi pensiamo qualche volta magari di salvarci facendo un po' i furbi, passando dai fessi ai furbi, ognuno di noi, chi lo nega. Però se ognuno di noi ha la tentazione, però nessun paese in mano ai furbi riesce a salvarsi. L'Italia è un paese straordinario, non possiamo lasciarlo ai pescecani. E quindi non possiamo lasciarlo in mano ai furbi. Però ecco, gli onesti, quali strumenti possono avere per cercare di ribaltare un po' la situazione? Intanto riconoscersi e riconoscere chi sono i pescecani e affermare appunto l'onestà è un valore. Perché vedi, quando uno tutti i giorni continua a sentire che tutti vanno avanti con la furbizia, con la corruzione, infrangendo le leggi, facendo... E alla fine uno è tentato un po' di farlo anche, come dire, di dar valore sociale, di dare un valore... Perché non facciamo anche noi? Tu sei scemo se non fai così. E magari di dirlo anche ai propri figli, o almeno di lasciare passare questo messaggio. Facciamo anche noi i furbi. E quindi poi, come dire, la cosa del malaffare dilaga dai grandi eventi, da Mafia Capitale, dall'Expo, al Mose, ai comportamenti quotidiani. Certo. Io racconto sempre con un sorriso sulle labbra di quel signore che è stato bloccato qualche tempo fa dalla polizia vicino a Spoleto, che guidava i 100 all'ora di notte. lo fermano, lo bloccano, e gli dicono per fargli la multa, poi fanno i controlli, dicono forse dobbiamo ritirare la patente, ulteriori controlli. Guardi che qua scatta una denuncia per truffa, perché lei risulta completamente cieco. Non solo va ai 100 all'ora, su una strada di provincia, di notte, ma risulta pure cieco. Lui si mette a gridare, sta scritto nei verbai della polizia, si mette a gridare in mezzo alla strada, si inginocchia, no, 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 è vero, è vero, è vero che io sono cieco, io sapete perché sto correndo così, sto arrivando da Lourdes, è stato un miracolo. Ecco, la furbizia c'è nei grandi, c'è spesso anche in tanti piccoli atteggiamenti. Bisogna dire no a questi atteggiamenti. Devo dire che la furbizia c'è anche nell'ex professore della Bocconi, peraltro molto cotato nella sua materia, che colloca milioni di bond che si rivelano poi essere il classico pacco. Devo dire che sono rimasto poi anche esterifatto di fronte alla ricostruzione così precisa di questo evento. Ecco, però, ma truffare è così semplice? Basta avere la faccia di bronzo, così come dici tu? Oppure la verità è che bisogna stare nell'ambiente giusto e avere le intrature giuste? No, truffare è abbastanza, purtroppo è abbastanza semplice in questa situazione. Quindi c'è, perché lo fa il professore della Bocconi che fa un po' in grande stile con nomi altisonanti, quelli che faceva Totò con la Fontana di Tere, cioè ha piazzato dei palazzi, ha venduto dei palazzi che non aveva, ha venduto delle società che poi si è scoperto che in realtà erano una roulotte sperdute in un deserto del Nevada. Quindi ci ha fatto delle cose incredibili. Diciamo che, però, non bisogna essere per forza professori della Bocconi, perché io racconto nel mio libro anche di quel signore che ha rubato 7 milioni di euro di quelli che noi regaliamo ai bisognosi, in questo caso era una raccolta per i terremotati di Haiti, 7 milioni di euro sottratti per farci cosa? Una rivista di gossip con l'Elemora. E questo non era il professore della Bocconi, si chiama Dino Paste, è un signore... Quindi diciamo che c'è di tutti i tipi. Vedi qual è il problema di questi tempi? Che la politica è molto debole. La politica si è sputtanata se posso usare un francesismo, una parola che non usa... Adesso ci arriviamo sulla politica. Voglio chiederti questo. Come nell'ambiente della finanza, anche in quello dell'industria, la truffa è troppo semplice o le aziende non hanno gli anticorpi necessari? No, anche le aziende, ripeto, le aziende non hanno gli anticorpi, ma non è difficile truffare, però ci vogliono delle barriere e le barriere, ripeto, ci vogliono della politica e ne parliamo dopo e poi ci vogliono una giustizia certa che faccia pagare il truffatore perché un po' ci vogliono... Questo è il problema più grande purtroppo. Questo è il problema più grande e io mi stupisco tutte le volte perché faccio l'elenco dei miei pescecani che racconto nel libro alcune storie sono al mente che uno può sembrare surreale invece è tutto vero. Poi prova a vedere sono tutti liberi. Il signore che ho raccontato prima che ha sottratto 7 milioni è libero, gira tranquillamente. Un altro che ha sottratto 8 milioni si chiama Pierino Santò ad Asti 8 milioni e mezzo dalle case popolari ha restituito 800 mila euro poi non l'hanno arrestato siccome era depresso l'hanno messo in una casa di cura da dove continua a gestire i suoi affari. come se niente fosse se noi andiamo a vedere dagli scandali di Tangentopoli e gli scandali di oggi Expo e Mos troviamo le stesse persone non solo Napoli ma le stesse imprese Maltauro, Baita sono gli stessi che stavano allora patteggiano via riprendono a rifare stanno già riprendendo a fare la loro attività come se niente fosse allora gli anticorpi ce li dobbiamo mettere noi ed è il motivo in cui io dico per cui scrivo pescecani perché voglio però spesso sono degli anticorpi che piuttosto di spingere la collettività a dire no dobbiamo cambiare assolutamente e fare in modo che questo sistema cambi ci ritroviamo di fronte purtroppo a questi episodi dove la giustizia che dovrebbe essere la prima ad avere gli anticorpi giusti per debellare certi meccanismi invece è come se lasciasse passare determinate questioni quindi questo è un danno di immagine anche per coloro che vorrebbero fare del bene ma che purtroppo poi spinti da una crisi che è quella che è dicono no allora se a lui è andata così se ci prova anche io può darsi che anche a me può andare nello stesso modo questa è la seconda gamba la prima come dicevo appunto deve essere dentro ognuno di noi dentro ogni azienda ogni persona ogni singolo dentro il corpo sociale secondo però ci deve essere una stampella forte che non c'è stata e perché non c'è stata perché la giustizia purtroppo l'abbiamo usata in questi anni da una parte dall'altra come uno la pensa come un manganello politico cioè l'uso della giustizia a livello politico ha avuto questa seconda conseguenza devastante ti chiedo scusa magari non c'entra nulla però può avere a che fare con questa giustizia che a volte non è possiamo dire forse è malata in questo senso ma ha usato il manganello politico ad esempio nel caso di Corona sì ha usato il manganello politico nel caso di Corona perché il caso di Corona è un caso eclatante ecco in Italia nessuno dei pescecani che racconto nel mio libro sta in galera però Corona sì perché è diventato un simbolo questa giustizia la malattia della giustizia ripeto al di là perché molto spesso il dibattito sulla giustizia in Italia non si riesce a fare perché è subito la destra contro la sinistra il problema della giustizia non è un problema di destra o di sinistra è un problema del paese perché è una giustizia che non funziona e oggi la giustizia non funziona è devastante è sempre di giustizia un'altra notizia che fece scalpore ma lo fa tuttora insomma 1243 case senza pagare una tassa nascoste al fisco e alcune addirittura anche affittate al comune di Roma più di un paio allora come è possibile questo tenendo presente proprio perché stiamo parlando appunto di giustizia che se un cittadino normale dovesse procedere in questa maniera verrebbe preso in due secondi insomma allora cosa c'è qui che cosa è che c'è un sistema in cui i pescecani nuotano e qua ritorniamo sempre a tu mi dici ne parliamo dopo però è la debolezza della politica perché i pescecani più forti nuotano in questo mare perché come è possibile che 1243 case non riconosciute circa un migliaio un migliaio affittate al comune di Roma per cui il comune di Roma non conosce le case cioè conosce benissimo l'esistenza delle case perché ci paga l'affitto ma poi si dimentica dell'esistenza delle case in un momento in cui deve andare a sportare le tasse capisci che è una cosa strana che non può esistere tra l'altro la storia di Lady Armelini è straordinaria è bellissima anche per dove vive quindi è anche una di quelle pagine che è anche stato divertente scrivere e spero sia divertente da legge ma al di là di questo pone poi un problema fortissimo pone un problema fortissimo di controllo chi è che controlla? perché come dicevi tu giustamente al singolo cittadino gli vanno a controllare fino al commerciante che per 15 euro al barista che regala il panino al disabile gli vanno a fare la multa e sfuggono 1243 case e adesso arriviamo all'aspetto politico insomma quando si presume che dei beni siano di provenienza sospetta un provvedimento urgente del Tribunale Civile può disporre giustamente il sequestro tu dici che si tratta di una norma un po' particolare ma perché è usata poco e appunto qui la politica tende a non sanare quando poi si rende conto anche la politica stessa che non si può fare nulla insomma è meglio lasciarla così la cosa piuttosto che intervenire no beh sono due cose diverse nel senso che la legge quella legge lì è una legge che dà uno strumento molto importante alle nostre forze dell'ordine alla guardia di finanza soprattutto che l'ha usata in questi anni l'ha usata anche molto bene però stiamo parlando di una legge eccezionale sì allora siccome siamo di fronte a una situazione di malaffare fortissimo vanno bene anche leggi eccezionali però sapendo che sono leggi eccezionali quindi vanno usate con la guardia perché togliere le proprietà a una persona senza che ci sia una condanna penale ma semplicemente per la provenienza sospetta di questa di questa cosa è un provvedimento che dal punto di vista della tutela dell'individuo e delle libertà individuali è fortissimo e quindi va va usata come tutte le armi nucleari va usata con molta attenzione tu scrivi che i farabutti non sono ancora abbastanza forti da lanciare un'opa sull'intera nazione però lo possono diventare mano a mano che e torniamo di nuovo sulla politica la politica non ha dimostrato di essere in grado di autoriformarsi quindi allora in qualche modo è come se questo compito spettasse di nuovo ad una collettività che spesso è sempre più indifesa non sa come come reagire come comportarsi pur riconoscendo quali sono i farabutti e quali sono i pescecani certo ma questo è il punto vedi perché la politica che è ripeto come dicevo prima si è sputtanata in questi anni per la politica in sé è la cosa più bella che ci sia la cosa più giusta più sana per la politica cos'è la rappresentanza della polis quindi la rappresentanza degli interessi dei cittadini quando viene a mancare la politica in questi anni è venuta a mancare la politica io lo denuncio da tanti anni insieme a tanti altri colleghi all'inizio ci dicevano qualunquisti invece è il problema reale ed è un problema vero perché nel momento in cui la politica viene meno e viene meno perché perché non rappresenta più gli interessi dei cittadini ma difende solo i propri privilegi la battaglia che io faccio da anni contro i vitalizi perché perché i vitalizi sono il simbolo di questi privilegi una classe politica che ha maciullato le pensioni degli italiani senza nessun rispetto per i diritti acquisiti dagli italiani e poi difende invece fino all'ultimo i propri diritti acquisiti mi viene da pensare all'altro tuo libro sulle pensioni sanguisuga sanguisuga ma io continuo a battermi perché guardate finché ci sarà una persona che tutti i mesi prende 3.108 euro al mese per essere stato in Parlamento un giorno e questa persona c'è si chiama avvocato Luca Boneschi per essere stato un giorno in Parlamento tutti i mesi prende 3.108 euro al mese è il simbolo è il segno non parliamo dei doppi tripli vitalizi ho avuto scontro con il signor Mario Capanna ma anche durante il signor Mario Capanna difende il proprio diritto ad avere il doppio vitalizio e si oppone anche al minimo sacrificio su questo ecco la classe politica che difende i vitalizi mentre gli italiani e le pensioni degli italiani sono state massacrate ci sono stati gli esodati c'è stato tutto quello che sappiamo ecco questa è una classe politica che non ha più la dignità di difendere i cittadini e questo è un male è un problema perché i cittadini possiamo dire una classe politica che purtroppo è diventata troppo autoreferenziale quindi di conseguenza pensa solo ed esclusivamente al suo orticello ma forse questo è un problema che c'è sempre stato fin dall'inizio però guarda che si è molto aggravato adesso certo ultimamente si è molto aggravato e sicuramente anche con la nuova legge elettorale si aggraverà ancora di più secondo il mio punto di vista sicuramente sì probabilmente però ecco se la politica non è in grado di denunciare però mi sembra di capire che forse anche il nostro mondo quello dell'informazione che denuncia ma poi in realtà queste denunce purtroppo rimangono lettere morte però io su questo io sono disposto come dire a bastonare perché faccio collezione degli errori delle cose sbagliate non ho nessuna cosa di difesa della categoria perché no amo questo mestiere quindi ne vedo tutti difetti però non è che si possa chiedere tante volte io quando faccio questi libri quando faccio le conferenze in giro quando vado a parlare mi dicono e qual è la soluzione i giornalisti non devono dare la soluzione e diffidate dai giornalisti che danno la soluzione i giornalisti devono raccontare devono denunciare devono sollevare il velo se poi viene a mancare la parte che invece non accoglie queste cose e abbiamo visto c'è da una parte la giustizia che è malata d'altra parte la politica che è malata e il giornalismo sarà malato pure lui però non ha il compito di risolvere i problemi io spero che possa sollevare sollevare un po' gli anni ma forse il fatto che la collettività chiede al giornalista delle risposte concrete può essere anche dipeso dal fatto che oggi nell'immaginario collettivo si è instaurato un quadro dove il giornalista può essere un giornalista di destra un giornalista di sinistra e quindi di conseguenza in questo caso essendo di parte pur non dovendolo essere ha la verità nascosta in tasca io diffido sempre e invito sempre tutti coloro che mi seguono che vengono ai miei incontri di fidare da quelli che hanno la verità in tasca io non ne ho la verità in tasca io nei miei libri da sanguisughe a pescecani ho iniziato a scrivere il primo libro vent'anni fa si intitolava silenzio si ruba ahimè purtroppo si continua a rubare ho scritto 20 libri e dentro ci stanno tutti di destra di sinistra di sopra di sotto non me ne frega niente mi interessa questo paese perché vedi quello che dicevi tu prima questo paese è ancora un paese straordinario è ancora un paese meraviglioso e andando in giro a caccia di pescecani perché io sono un po' più fisicamente andato nelle varie province d'Italia andando in giro a caccia di pescecani ho anche incontrato tante persone che invece lottano tanti giornalisti ecco mi parlavi dei giornalisti tanti piccoli giornalisti di testate di provincia di online che fanno delle battaglie forse nate senza avere niente in cambio ma anzi magari venendo massacrati da tutti per difendere sono delle persone infatti gli dedico una parte del libro a queste persone che sono storie tanti volontari tante persone per me è un paese ancora meraviglioso non possiamo lasciare ancora delle risorse positive che vogliono dare una positività al nostro paese e cercare di farlo viaggiare in quella direzione però anche qui la domanda è lecita insomma voglio dire una collettività che spera che anche lo Stato da questo punto di vista faccia un intervento intervento quindi la politica ma se lo Stato il più delle volte poi è coinvolto in certi meccanismi allora che cosa dobbiamo fare cosa dobbiamo pensare a una forma di autogiustizialismo che qualcuno può anche cadere in questo no? il punto il centro è lì perché nel momento in cui lo Stato si indebolisce è quello che è successo in questi anni lo Stato cioè attraverso l'interruzione della politica colpevole debolezza della politica si è interrotto il fatto che lo Stato non riesce più a rappresentare i cittadini e quindi quella che qui a Roma è stata chiamata la terra di mezzo cioè la politica sta sopra ma poi la politica può essere a questo punto di destra di sinistra non cambia niente perché quello che contano sono i pescecani a Roma lo si è visto benissimo sono i pescecani che stanno lì e comandano e decidono che cosa fare e bada bene lo fanno sui guai della gente lo fanno sull'immigrazione fammi venire tanti immigrati perché io con gli immigrati ci faccio fatturato gli immigrati facciamo la burocrazia sempre dall'intercettazione di Roma capitale ma perché ci vogliono tre anni per avere un documento benissimo perché io se voglio ci metto c'è una sorta di speculazione su questo non è che la burocrazia l'Italia ha le isole il sole il mare la burocrazia perché il destino è perché nella burocrazia ci nuotano i pescecani ci guadagnano i pescecani quindi i pescecani sguazzano proprio su quella debolezza lì dello Stato sulla debolezza delle istituzioni e comandano loro tu dici come facciamo a interrompere questo meccanismo io non lo so però io l'unica cosa che so è che noi a questo punto siamo di fronte a un bivio o accettare che vada sempre così e secondo me va verso la devastazione di questo paese o non rassegnarsi alla rassegnazione e io credo che non si debba rassegnare e guarda e concludo che i cambiamenti poi dal basso partono perché non è vero che cambiano ho citato primi i costi della politica non siamo ancora riusciti a cambiare nulla ma il sentimento nei confronti per esempio dei costi della politica è profondamente cambiato si è profondamente modificato quindi non è vero anche che ogni tanto sento un po' di rassegnare è sempre andato così va bella no 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 c'è la voglia di cambiare e bisogna aiutare tu dici una parola molto importante che bisogna calcare in maniera forte secondo me parli di onestà no? che sarebbe una delle riforme più belle che ci possano essere nel nostro paese però ecco due osservazioni prima parlavamo della politica dell'eccessiva anche in base a quello che dicevamo autoreferenzialità politica ecco forse l'eccessiva autoreferenzialità non permette alla politica di trovare la strada dell'onestà sì anche quello perché la politica è un mondo chiuso a sé stante che non riesce più a parlare e secondo me anche lì un po' volutamente perché siccome si fanno gli interessi loro se li fanno fra di loro la gente non capisce un beato mazzo di quello che succede è distantissimo ogni giorno che passa la distanza fra il palazzo e il paese reale aumenta sembra che facciano di tutti anche appunto citavi prima la legge elettorale al di là di come uno la pensi sul contenuto e io sono fortemente critico sono d'accordo con te che è una legge sbagliata ma anche il modo stesso in cui viene approvata la legge è una roba che è folle perché siano anni che parliamo delle riforme le riforme che dovrebbero svolgare le riforme avvengono in questo modo incomprensibile chi aveva votato a favore vota contro quelli che votano contro poi se ne vanno via è il voto di fiducia ma se andiamo in mezzo alla strada chiede alla gente che cosa ha capito e quello deve essere il punto riqualificante della politica questa legge elettorale cosa riqualifica e allora è vero che l'autoreferenzialità aumenta il distacco e l'onestà dei cittadini di quei cittadini purtroppo scontenti c'è un po' di onestà voglio dire in giro non dobbiamo fare tutta insomma ce n'è tante ce n'è tante l'onestà però forse è troppo ancora silente come possiamo dargli volume farla sentire dando gli spazi guarda io l'altro giorno ho mandato al telegiornale una storia semplicissima di un bareliere di Reggio Emilia che ha trovato un portafoglio con 900 euro dentro per lui un bareliere 900 euro era più di un stipendio mensile è diventato matto per trovare la padrona attraverso le forze dell'ordine si è dato da fare e l'ha restituito tra l'altro questa signora l'aveva messa da parte era una signora poveretta anche lei per pagare un funerale di un congiunto e ha ringraziato questo bareliere davanti al microfono ha detto una cosa straordinaria ha detto proprio quello che ci dicevamo prima ha detto io l'ho fatto questo perché non voglio arrendermi alla disonestà perché voglio dare una testimonianza di onestà ce ne sono tanti di bareliere ci sono tanti quell'imprenditore quel pasticcere di Palermo che quando qualche settimana fa gli viene chiesta una tangente di 100.000 euro per aprire la pasticceria all'aeroporto anziché pagare la tangente registra la telefonata e denuncia il presidente della camera di commercio di Palermo e lo fa arrestare ecco il pasticcere di Palermo diventa un simbolo positivo del fatto che anche a Palermo in uno stesso edificio si può dire di no ti faccio un'ultima domanda riguarda un personaggio che oggi è molto molto imitato in questo caso da Crozza già hai capito forse di chi sto parlando viene chiamato il viperetta Massimo Ferrero Chiabretti gli fece una battuta nel suo programma dicendogli se ce l'ha fatta lei ce la possiamo fare tutti forse è stato un po' offensivo Chiabretti non lo so però come è questa storia di Ferrero che oggi è anche il padrone della Sampdoria si è il padrone della Sampdoria nel giorno in cui è diventato padrone della Sampdoria Massimo Ferrero dettore viperetta ha patteggiato una condanna per bancarotta fraudolenta di una società aerea la Livingston la Livingston in cui vabbè dipendenti in difficoltà eccetera e lui ha fatto alcune operazioni anche abbastanza divertenti anche queste che io racconto nel mio libro perché la bancarotta fordolenta si fa quando uno sottrae dei fondi e quindi quello che lui ha fatto alla Livingston lui mi ha detto in una telefonata piuttosto violenta ma io lì sono stato truffato perché io non sapevo uno non è che entra in una compagniera come si entra al bar a prendere il caffè al mattino se uno c'entra ci sarà una ragione così come se uno entra nel calcio e gioca molto sulla sua popolarità probabilmente c'è qualcosa che vuole allora per l'amor del cielo io auguro tutto il bene e tutta la fortuna però un personaggio che vuole godere della massima popolarità deve anche accettare che si racconti tutto il suo lato anche il lato un po' più oscuro anche il lato che viene fuori dagli atti e dopo di che ognuno si farà la sua opinione anche su Massimo Ferrero e su che cosa si nasconde dietro questa sua esuberante simpatia io ringrazio Mario Giordano direttore del TG4 ma anche autore del libro Pescecani quelli che si riempiono le tasche alle spalle del paese che affonda Mondadori editore ringrazio anche tutti quanti voi ci diamo appuntamento la prossima settimana buona serata grazie a tutti